Ailo è una renna che osa. Beh, attento però, stai rischiando molto. Eppure, la sua audacia è fonte di ispirazione. Passo dopo passo, Ailo diventa il capobranco dei più giovani. Tuttavia, al minimo passo falso, il fantasma della taiga non esiterà. Cominciate a tremare. O chiudete gli occhi se siete troppo sensibili, perché niente può fermare un ghiottone affamato. Niente potrà impedirgli di gettarsi sulla sua preda. Nella neve, il ghiottone è in vantaggio, perché le sue zampe larghe non affondano, a differenza degli zoccoli delle renne. Ve lo ripeto, niente può fermarlo. Ehm, a parte forse una femmina di ghiottone. league suoni. Come si fa, a partire una protezione. umbers al capo di uccidere. irέ citation situazioni.